partiamo con un bel rally 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 semi cosa abbiamo qua una vv 3 2 1 vai destra 4 destra 5 destra 5 destra 4 in destra 5 300 destra 5 180 destra 5 ancora 150 destra 5 150 dosso occhi 50 destra 100 distra 5 100 distra 4 2 tempi dosso occhi 100 fonte stretto sinistra destra 5 indosso 50 destra 4 destra 3 più o meno torratino sinistro 50 no ragazzi sinistra 2 meno no sinistra 5 in destra 5 sinistra 5 80 destra 5 2 tempi fonte stretto 50 destra 4 indosso 80 incredibile non sinistra 5 sinistra 5 destra 3 tagliala sinistra 5 destra 5 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 4 tagliala 150 Kubi-chan destra 5, 100 destra 3, 200 destra 5, lunga, 100 sinestra 2- oh se no sui binari qua eh ragazzi indosso 100, sinistra 5, 80 sinistra 3, 100 indosso 50, destra 5, 200 destra 80, sinistra 5, sinistra 3 destra 2- subito bravo 200 sinistra 100 sinistra ancora, 100, 50 destra 5, 200 indosso sinistra 100 sinistra ancora, 100, 50 sinistra 5, destra 5, 100, 50 tormentino destro indosso 200 sinistra 100, destra 4, lunga, lunga, 100 incontro indosso indosso che cazzo fai qua sono arrivato di striscio salve ragazzi vai fine